buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo video sarà un video vlog oggi è sabato 9 dicembre e sto uscendo con francesca con francesca oggi giornata fra donne e stiamo a roma est e niente vi porto con me dopo vi faccio vedere l'albero che ho fatto ieri non ho fatto il video perché è meglio non parlarne sto facendo il caffè come sempre perché ormai questa è tradizione ormai dei miei vlog e niente allora siccome ho visto che sul canale non siete tanto attivi allora io adesso non capisco se è il feed che youtube non manda o proprio perché non vi stanno piacendo i miei video su youtube quindi se non cioè attivate la campanellina sempre per sicurezza che trovate vicino al tasto iscriviti qua sotto oddio ho tutti gli occhi ok se no fatemi sapere qua giù nei commenti se non vi piacciono i video che sto facendo perché vedo che non c'è stato tanto riscontro sto a vedere se sta a piove e va bene noi ci vediamo dopo un tanto stavo mangiando stavo mangiando questo qua kinder colazione più è l'albero con romeo sotto perché giustamente ci deve essere non ti azzardari a toccare l'albero l'ho fatto io comunque al solito con il mio da solito appunta ho scritto ho notato allora io sono pronta non è stato inventato qui che sto con le maniche corte e sto con i jeans e con le scarpe ma fa caldo fa tanto caldo comunque questo è il trucco e adesso vi faccio vedere l'outfit è l'outfit appunto la maglietta di mio fratello con tutte queste cose qua di jeans neri e le scarpe oddio ok aspettate le scarpe queste qua ok guardate la cover che mi è arrivata è l'ultima cover che mi è arrivata da Aliexpress è di Hogwarts poi farò un video a parte certo allora rieccoci la riconoscete questa casa perché vabbè la riconoscete la cosiddetta Francesca si sta facendo il trucco smettila e niente siamo solo io e lei io e lei e io e comunque mi sono messa anche il giacchetto che dovrebbe far pandan con le scarpe dovrebbe e niente noi siamo a Roma Est facciamo un giretto e poi non sappiamo che fare però vabbè siamo solo io e lei se non potete capire chi ho incontrato Gemina Makeup dove vi lascio la foto comunque allora salve siamo qui da Ragneri salve abbiamo comprato una cosa in comune che dopo vi faccio vedere e vi faccio vedere anche in un video haul perché mi sono arrivate anche le cover di AliExpress e niente siamo qui stiamo aspettando Alex che lo ammazzeremo perché non è venuto da Romesto e niente saluta lo sai non perché sta luce illuminati da Dio Gesù sei sentite in sapugnari i sapugnari venticentesimi sprecati no vabbè avete finito ragazzi io sono andata a casa questo video finisce qui spero che questo video vi sia piaciuto e se è così vi mando un bacione enorme e se è così mettete un bel pollice in su iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao